A che cos'è Tenerife? Oggi parliamo di pesci. In questo acquario ci sono dei piragna un pochino grandini. Sono venuto qui allo schistiano da un mio caro amico che tiene un negozio di giocattoli e tiene questo acquario molto segreto. Manuel, Manuel, ma senti un attimo, ma guarda che colori che hanno questi. Ti puoi spiegare che cosa sono? Quelli sono pesci Oscar. Questi si chiamano Oscar. Ciao Oscar. Mi dicevi che... Dal Malawi vengono, dall'Africa. Fantastico. E invece c'è quell'altro che è molto timido. È il piragna. È il piragnone. Qui ce n'è un altro molto grande, ma vedo che è fantastico. Lui è Manuel. Ciao a tutti. Ciao. Ciao. Negozio di giocattoli allo schistiano. La felicità dello sligno. Esatto. Corretto. Bene. Credo che io adesso mi sposto, cerco di prenderlo un pochino per i colori che sono uno spettacolo e vediamo quest'altro. Bene. Perché cos'è Tenerife Francesco Gallori dal negozio di giocattoli del nostro amico Manuel. Piragna. Anche questo è Tenerife. Ciao. Ci vediamo alla prossima.